Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Mario Secchi, tu che sai meglio di chiunque altro, dici c'è un complotto, c'è Mediaset, non ne sapeva niente, la famiglia Berlusconi non ne sapeva nulla di questi fuori onda. E tu come l'hai vista oggi? Scusami Mario Secchi, come l'hai vista oggi? Nervosa, la Meloni? Come sempre, sempre molto combattiva, aggressiva, no? No, io l'ho vista molto combattiva come sempre e non era facile, parliamoci chiaro, perché poi comunque c'era una questione degli affetti ovviamente. E invece l'ho vista combattiva, ha usato le formule retoriche che usa lei quando va in aula e vede che qualcosa in aula si agita, dice, vi vedo nervosi e così via. Era un intercalare usato per dire, guardate che io sono qua, combatto, vesto a menà, come dicono a Roma. E quindi, diciamo, è lei sotto ogni aspetto. Questo per quanto riguarda il discorso che ha fatto alle Camere. Poi invece la questione Mediaset, Ricci, Meloni. Le banche non c'entrano nulla, l'ha già detto Lina, quindi non mi dilungherei su questo. Ricci però ha un, diciamo, cursus honorum dentro Mediaset di assoluta autonomia. Io l'ho già detto anche l'altra volta, bisogna ripeterlo questo. Quindi, Pier Siglio stesso... Quindi insomma non avrebbe senso, Mario, non avrebbe... C'era questa cosa qua. Non avrebbe senso che Meloni se la prendesse con la famiglia Berlusconi e che adesso ci fosse qualche ritorsione contro Mediaset. No, ma secondo me, Liceo... No, ma questo non accadrà. L'uscita, la dichiarazione di Marina Berlusconi ha la sua origine. Al fatto che tra Marina e Giorgia, quindi queste due donne, c'è un rapporto che si è consolidato nel corso del tempo e così via. E' chiaro che, diciamo, queste cose turbano, non fanno piacere, sono un inconveniente per un campo di governo. Però Meloni ha reagito molto bene. Questo mi pare abbastanza evidente, con grande risolutezza. Ha cominciato subito al lavoro. Non è andata alla manifestazione dei Fratelli d'Italia, come sapete tutti, ma ha fatto il Cairo e Israele. E oggi è andato in Parlamento, poi c'è il Consiglio europeo. Insomma, devo dire che rispetto a quello che viene in dittura dei giornali, è un leader che reagisce. Mario Secchi, è quello che ci si aspetta da un Presidente del Consiglio che deve governare il Paese, oltretutto in una situazione così delicata. Nella storia ne abbiamo visti tanti che hanno fallito. Lei no. Questo è molto importante, dal punto di vista della risposta emotiva e della leadership. da discutere. No, io dicevo, ma i nemici non è...